Presidente, partita l'edizione 2015 di Artefiera, l'inaugurazione, che cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione di Artefiera? Intanto siamo partiti molto bene, con le gallerie, come abbiamo detto, molti di più che lo scorso anno e devo dire con la presentazione di opere veramente molto molto importanti, Artefiera quindi conferma la sua promessa e il suo impegno, quella di essere innanzitutto una grande galleria per tutte le gallerie italiane, che sono veramente tutte presenti nel modo migliore e poi una grande galleria dell'arte italiana, dei grandi maestri dell'arte italiana che oggi trova nel mondo di nuovo anche un consenso, un grande successo. Abbiamo potuto celebrare con l'opera meravigliosa del maestro Burri i suoi cento anni e assieme a lui tutti i grandissimi nomi appunto della nostra arte. Abbiamo aperto Artefiera con Michelangelo Pistoletto e quindi nel modo veramente migliore e con la presenza del ministro Franceschini che ha sottolineato in questo modo come Artefiera è anche una parte di un impegno culturale, un impegno culturale per celebrare la nostra arte ma anche per costruire di nuovo un sistema dell'arte in Italia di cui anche le fiere, la nostra fiera fa parte. Tanti motivi quindi per essere ad Artefiera nei prossimi giorni. Il ministro ha detto che chi fa cultura deve essere premiato, voi non qualche modo state portate avanti un progetto culturale molto importante per la città di Bologna ma non solo, per l'Italia intera? Facciamo impresa, facciamo impresa di cultura, la facciamo con le nostre risorse, con le nostre forze, contribuiamo come Bologna fiere al fatto che possa esserci assieme all'amministrazione comunale questo straordinario evento di Art City che per fortuna molti poi ripetono in altre città ma che naturalmente resta irripetibile, è il primo dell'anno 2015, dell'anno dell'Italia dell'Expo e quindi è anche un modo per dire come Bologna sarà presente in questo anno non solo per il nostro paese ma anche per visitatori di tutto il mondo.